40 minuti di guerra e dedizione, purtroppo anche stavolta non è bastato. Il clima derby si sente più in campo che sulle tribune, saranno gli ingressi contingentati, la capienza ridotta, sarà più probabile il periodo delle due squadre. Casale Biella non mostra più il colpo d'occhio di una volta sugli spalti, spopolati e tiepidi, ma sul parquet la lotta è stata feroce. Biella per la prima volta schiera due americani in salute, coscienti di se stessi, e si vede. Davis è finalmente cattivo e deciso nelle incursioni in mezzo all'area. Esbruck dosa colpi da maestro e tiene in ritmo i compagni. La difesa fa la differenza, intensità e pressione che portano a tante palle perse e monferrine già a metà campo. Nel primo tempo a tenere a galla i padroni di casa sono solo Martinoni e Sarto, osservato speciale, oltre a Duccheche, del CT della Nazionale Meosacchetti in tribuna. Si procede a strappi, ma Biella tiene sempre il naso avanti. Monferrato non arriva più vicino del meno due. Casale è gravata di falli, ma nei primi 20 minuti si è vista, senza dubbio, la miglior Biella della stagione. Lo spartito cambia nel secondo tempo. Occheche entra in partita e inizia a farsi valere sotto canestro, dove è incontenibile. Il poco coraggioso pubblico casalese, non pervenuto nel primo tempo, inizia a scaldarsi. Il meno nove dell'intervallo è già annullato a fine terzo quarto. Il primo sorpasso è una bomba di Fabio Valentini, subito annullato da Esbruck. Si segna poco, si sbaglia tanto, non è una partita bella, ma incredibilmente intensa. Qualche lampo da ambo le parti non riesce a indirizzare la gara. Nel finale, Occheche, rimesso al momento giusto, trova i punti decisivi nella zona del ferro, aiutato da Pepper. Poi sono solo errori, Bertetti ne sbaglia due aperte. Il tiro finale di Esbruck muore sul ferro, 65-62. Biella può essere contenta perché la reazione si è vista. Rimane il rammarico perché per una volta che i ragazzi di Coach Zanchi hanno potuto contare su due americani a pieno regime, è arrivata una sconfitta contro una squadra che, alla voce USA, era davvero malmessa. Hill Maze è impresentabile se non proprio il sovrappeso. Lo stesso Pepper si è salvato solo nell'ultimo quarto. Occheche e Sarto sicuramente hanno fatto felice il CT Sacchetti. 13 punti e 10 rimbalzi per l'ex di Borgomanero. 22 punti con 6 su 7 dall'arco per il veneziano. Migliore per distacco dei Monferrini. A Biella non bastano i 21 di Esbruck e il primo apprezzabile Davis della stagione. Una prestazione su cui vorremmo dare più dettagli, ma il Palla Ferraris non ha fornito statistiche corrette. Decisamente non è più il derby di una volta. Ma mi dispiace che le statistiche non siano veritiere. Anzi, siano sbagliate. Perché sicuramente si poteva vedere un attimino di più l'andamento tra un tempo e l'altro. Ora, noi non abbiamo perso la partita per i canestri sbagliati. Abbiamo perso la partita perché abbiamo concesso 40 punti nei secondi due periodi e 25 nei primi. Succede che non siamo una squadra che ha tanti punti in mano e chiaramente l'abbiamo pagata. Abbiamo fatto degli errori nel terzo e quarto periodo che non dovevamo fare. Concedendo dei secondi tiri, concedendo dei tiri aperti da tre ai loro tiratori. e questa è tutta esperienza. Perché a un certo punto ti viene la paura di vincere. Dispiace soprattutto per loro perché ci danno tutto e meritavano una gioia. Però io ho il dovere di andare ad analizzare per far crescere questi ragazzi. Per crescere, come vi ho sempre detto, fin dal primo giorno, purtroppo l'esperienza non si compra al supermercato. Loro pensano perché sono giocatori, sono giovani. Loro pensano alla parte offensiva. Ma noi l'abbiamo persa difensivamente. Perché i tiri è giusto che li prendano gli americani. Va bene? Ma in difesa invece non conta l'età. Non conta niente. Conta l'attenzione. E noi nel secondo tempo abbiamo fatto delle disattenzioni facendogli segnare 40 punti che non dovevamo permetterci. Io lo devo dire. Io non posso che dire che vedo i ragazzi crescere e che vedo i ragazzi diventare ogni giorno di più giocatori di Serie A. E questa è una cosa che va detta per il lavoro che fanno sempre. Poi sapevamo dall'inizio chi eravamo. Quindi sono convinto che ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Grazie.